Dobbiamo ricordare che il codice del 1917 adopera anche alcune espressioni che oggi sembrano aver assunto un diverso significato e sulle quali sarà opportuno spendere una parola. Troviamo così l'espressione vite coniugalis comunicazionem, ovvero vite communionem, od anche vite consortium, o infine vite consuetudo. Orbene, in particolare la vite consuetudo, nell'intendimento della dottrina canonistica, significa in primo luogo il diritto con la relativa obbligazione sul corpo dell'altro, in ordine agli atti per sé idoni alla generazione della prole, cioè in ordine alla copula. Diritto perpetuo ed esclusivo. Inoltre, l'espressione indica communionem tori, mens et habitazionis, in unione animorum per mutum amorem et in aliquali unione bonorum. Se cioè il matrimonio celebrato è valido, immediatamente ne scaturisce la individua vite consuetudo, che è il matrimonio infatto esse. Tale consuetudine di vita è essenzialmente il vincolo, cioè l'unione matrimoniale, cui di norma consegue la comunione di letto, di menze e di abitazione, nonché una certa unione di beni e di volontà. In altre parole, nella individua vite consuetudo è indicato sia soprattutto il vincolo coniugale, sia anche il diritto dovere alla comunione di vita. Ma questa appartiene piuttosto alla integrità, anziché all'essenza del matrimonio, pur comportando tale comunione di domicilio, di menze e di letto, un obbligo di giustizia. Integrerà dunque tale comunanza la comunione essenziale e coniugale, ma salva l'essenza del matrimonio e se a talora può mancare. Per quanto attiene poi all'unione degli animi e dei beni, la dottrina ricorda che essa non entra nell'oggetto del contratto matrimoniale, ma è condizione necessaria perché il matrimonio abbia esito felice e perché si possano sostenere gli oneri. Unione degli animi, cioè il mutuo amore, non è dunque oggetto del contratto matrimoniale. D'altro canto, tuttavia, occorre tenere presente, anche per non attribuire un significato assolutamente materialistico alla dottrina, in proposito, che in tutto ciò che non abbia rapporto agli atti per sé idoni alla procreazione, nessun diritto e reciprocamente nessuna obbligazione spetta il coniuge sul corpo dell'altro. Quindi la donna non è serva dell'uomo, né strumento del suo piacere, come presso i pagani, ma né la compagna, socia, con uguale diritto sul corpo dell'uomo. Ecco perché, annotano i canonisti, non da oggi, il matrimonio è fra tutte le altre società la più intima che, per me a riuscire, esige, prima di ogni altra cosa, il mutuo amore. Ma è dunque possibile determinare quale sia l'essenza del matrimonio? La dottrina e la giurisprudenza risolvono la questione con richiamo all'ambito dello stesso consenso coniugale. Dovremo ricordare questo principio quando rivolgeremo l'attenzione specificatamente al nuovo codice e al problema che qui stiamo affrontando. Quindi l'essenza del matrimonio in figlia di sta nel mutuo consenso manifestato dai nubenti, di tale contratto matrimoniale, oggetto materiale, sono le stesse persone dei contrarenti. Il che tuttavia deve intendersi correttamente. Cioè le persone dei coniugi sono oggetto materiale in quanto ciò che danno e ricevono è qualcosa di personale, non invece in quanto esse stesse si danno reciprocamente e si accettano, poiché ciò sarebbe l'oggetto formale. E infatti oggetto formale del contratto matrimoniale è la vite consuetudo, cioè il diritto mutuo, esclusivo e perpetuo sul corpo dell'altro reciprocamente il dovere in ordine agli atti idonei alla poche azione. Questo del resto era l'oggetto significato nel canone del vecchio codice. E poiché il matrimonio in fatto esse, nella sua essenza naturalmente, non può che nascere dal matrimonio in figlia di, è evidente e conseguente che il vincolo derivato consiste essenzialmente, come si è detto, nel diritto dovere alla vita coniugale intesa nei termini finora spiegati. Così, per esempio, anche la giurisprudenza rotale aveva definito l'ambito della incapacità ad assumere gli oneri coniugali. Andando oltre tale inquadramento strettamente giuridico, non sarà inutile porre l'attenzione e richiamare, almeno per sommi capi, l'insegnamento del magisterio tesiastico in alcuni dei suoi documenti più significativi. Già il Papa Leone XIII, nella sua enciclica Arcanum, ricordava che dopo il fine istituzionale del matrimonio volto alla propagazione del genere umano, in secondo luogo, a ciascun coniugale spettano dovere e diritti ben definiti. È infatti necessario, scriveva il Pontefice, che essi siano sempre così interiormente preparati da capire che l'uno deve all'altro a modem maximum, constantem fidem, sollers, assidunque, presidium. È vero, aggiungeva ancora il Papa, che l'uomo è il primo della famiglia e il capo della donna, ma Costei, poiché è carne della carne di lui e ossa delle sue ossa, è sottoposto e ubbidisce all'uomo, non a modo di serva, ma di compagna, così che l'obbedienza prestata sia onesta e dignitosa. Né meno ricca di insegnamenti, titola grande e enciclica Casti Connubi di Pio X. Sin dal proemio vi si ricorda che da Dio proviene la stessa istituzione del matrimonio, i suoi figli, le leggi e i beni, ma ogni concreto connubio nasce dagli uomini, e ciò con la dedizione generosa della propria persona, fatta all'altra per tutto il tempo della vita.